E sento che non posso finire senza dire una parola ai grandi assenti oggi, ai protagonisti e assenti, agli uomini e alle donne mafiosi. Per favore, cambiate di vita, convertitevi, fermatevi di fare il male. Che noi preghiamo per voi, convertitevi, vi lo chiedo in ginocchia, e per il vostro bene, questa vita che vivete adesso non ci darà piacere, non ci darà gioia, non vi darà felicità. Il potere, il denaro che voi avete adesso, da tanti affari sporchi, da tanti crimini mafiosi, e il denaro insanguinato, e il potere insanguinato, e non potrai portarlo all'altra vita. Convertitevi ancora, è tempo, per non finire nell'inferno. E' quello che vi aspetta, se continuate su questa strada. Voi avete avuto un papà, una mamma, pensate a loro, piangete un po' e convertitevi.